salve a tutti anticipazioni il segreto martedì primo agosto 2017 francisca rispetta gli ordini di cristobal e si mostra ad emilia come un'anziana donna senza più voglia di vivere inoltre dice alla giovane di vedere tra lei e cristobal qualcosa che sembra andare oltre il rapporto professionale l'unico risultato che otterrà però sarà quello di farla stare ancora di più sulle sue con gariches l'uomo furioso decide di far arrestare alfonso sperando che con lui fuori dai piedi emilia diventi più disponibile roman propone a lucas un lavoro prestigioso a madrid camilla confida ad un anselmo il suo legame con nestor buona settimana a tutti da engel e ricordatevi iscrivetevi ciao 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 ciao